Cari smanettoni, oggi è una giornata produttiva. Per ascoltare un pad solo in cuffia ti basterà andare su menu, kit, selezionare il pad e muoverti con il tasto più o meno finché non arrivi che la freccia è puntata soltanto sulle cuffie, ovvero phones. A quel punto ti basterà collegare le cuffie all'uscita cuffie dietro e alzare il volume finché non gradisci. Se sei un batterista e hai bisogno di avere in tutti e nuovi pad lo stesso suono, ti consiglio la funzione pad copy. Con questa funzione potrai facilmente copiare il suono in ogni pad. Basta andare su quick pad copy, selezionare il pad che vuoi copiare e semplicemente colpire il pad in cui desideri copiarlo. Spero sia stato produttivo, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e condividete. A presto!